Ciao, sono Emiliano Marini, candidato consigliere del Movimento 5 Stelle al supporto di Fernando Piero Monti Sindaco. La stazione di Anagni vive da ormai molti anni una carenza cronica di posti auto. Oltre questo muro abbiamo individuato all'interno dell'area dell'ex polveriera una zona già delimitata che con pochissima spesa e in brevissimo tempo potrebbe diventare un'area a servizio della stazione di Anagni come parcheggio. Anagni, cambiamola davvero!